A nome di tutta l'Associazione Diritti per Tutti di Brescia ringrazio i fratelli e le sorelle dell'Associazione Culturale Islamica Muhammadiyah per questo generoso gesto di solidarietà. È un'azione di mutuo soccorso in un momento particolarmente difficile per tutti noi, ma è da questi gesti, da questa fratellanza, da questa solidarietà che siamo riusciti a esprimere anche in queste difficoltà oggettive che stiamo vivendo noi tutti, che pensiamo che si possa ripartire, ripartire proprio sulla base di una convivenza pacifica, solidale, al di là delle differenze di provenienza geografica, religiosa o di colore della pelle. Questi sono i gesti che danno speranza e che ci danno anche la forza proprio per affrontare questa bruttissima situazione, questa tragica situazione e per guardare al futuro. Grazie.